Presidente, stanno riaprendo i musei, resteranno aperti, sto parlando dei contagi, rischiano di richiudere fra poco? Stamani ho visto 241 contagi, quindi ci manteniamo su un livello oggettivamente molto gestibile, quindi io sono convinto che sia stata una bella iniziativa quella di aver messo nelle condizioni in cui c'è la zona gialla, di aprire musei e mostre, naturalmente con distanziamento, con la grande attenzione e la cautela della mascherina, di tutti gli accorgimenti che sappiamo. Era importante perché io ne avevo fatto un po' anche una battaglia nella conferenza dei presidenti delle regioni. Stanno arrivando cattive notizie, altre cattive notizie da Pfizer per quanto riguarda i vaccini, altri ritardi. Il commissario Arcuri è molto arrabbiato, in Toscana che conseguenze avrà questo? In Toscana, come in tutte e venti le regioni, il rallentamento delle procedure che avevamo messo in campo ha ragione il commissario Arcuri, non c'è niente altro da dire e noi quando arrivano siamo pronti.